Quali sono, secondo Italia Nostra, le strategie migliori per il rilancio di Ascoli e del territorio? Diciamo che adesso come adesso, ma anche per il futuro, una volta che sono venuti meno certi modelli di sviluppo del passato, che sono andati in crisi per vari motivi, prima quello dell'industrializzazione indotta dalla cassa per il mezzogiorno, e quindi successivamente, una volta venuto meno questo modello, la globalizzazione ha portato ulteriori difficoltà a poter concorrere sui mercati e su tutti i livelli, e quello in termini di strategie future è quella di puntare soprattutto su quella che è la nostra vocazione principale, e che non è stata sfruttata quando avrebbe dovuto essere cominciata ad essere impostata una strategia di questo genere, cioè parliamo soprattutto della risorsa del centro storico. E' chiaro che è un meccanismo lento perché Ascoli si trovava in una situazione decentrata, però se fossimo partiti 30 anni fa, 40 anni fa, perché Ascoli ha questa caratteristica, ha questo valore implicito proprio, il valore del suo centro storico come un monumento unico, basta per seguire anche quell'intervista che stiamo proiettando nella TV russa, un intervistatore della TV russa che chiede a Margherita Huck se dovesse scegliere un luogo, uno solo, da visitare in Italia, e si sente rispondere da Margherita Huck, insomma che non è l'ultima venuta, deceduta purtroppo di recente, ha detto Ascoli Piceno e vada anche nella sua piazza centrale, le dice la sua piazza centrale. Quindi poi questo signore è rimasto sconcertato, questo intervistatore è rimasto sconcertato, però ha seguito questo consiglio e infatti nell'intervista si dice noi ringraziamo Margherita, persona di grande intelligenza che ci ha fatto scoprire una città sublime. Quindi a livello diciamo di propulsori centrali, di meccanismi mediali, di media oppure anche a livello culturale, grandi personaggi hanno conosciuto e hanno parlato di Ascoli, però nonostante sia venuto questo anche in passato, Guido Piovene, Cesare Brandi ed altri personaggi, Ascoli per vari motivi, soprattutto responsabilità forse anche nostre, non c'è avuto questa visibilità a livello nazionale, non rientra nell'immaginario collettivo e questo noi dobbiamo fare in modo che questo avvenga, perché con il turismo poi c'è tutto un indotto che dovrebbe assolutamente portare un beneficio. Certo il PIL, se noi confrontiamo la componente del PIL del turismo di città toscane rispetto a quella che potrebbe essere quella di Ascoli, noi potremmo tentare di avvicinarci con il tempo, però se non partiamo rimarremo sempre a questo livello.